Buonasera, questo video per fare la consueta panoramica generale sulle principali piazze finanziarie internazionali a metà settimana, oggi giovedì 24 novembre, sono le 16.20, metà pomeriggio, ci avviamo alla conclusione della giornata. Premesso che la giornata di oggi, 24 novembre come quella di domani 25 novembre, non saranno particolarmente significative dal punto di vista del trading, degli investimenti e anche delle quotazioni perché la borsa americana è chiusa per festività, totalmente chiusa oggi 24, parzialmente chiusa con orario anticipato domani 25, la festa del ringraziamento che negli Stati Uniti è una festa addirittura più importante. del Natale, se mi permettete la battuta, per cui non ci sarà operatività sul mercato e anche in Italia come in Europa oggi le contattazioni si mantengono assolutamente laterali, in trading range, con scarsissimi volumi. partendo dall'analisi del mercato italiano, tutto questo non è una novità perché il mercato del future Fuzzimib in realtà è laterale già da 10-11 sedute a questa parte dove ci sono pochi volumi nell'intraday, dove ci sono giornate con il trading range molto molto ristretto 100-150 punti e sempre nell'intorno del livello resistenziale 24.500. Solo nelle ultime sedute lentamente ci si sta allontanando al rialzo, raggiungendo il livello 24.700 che però se dal punto di vista numerico di livello può essere significativo in quanto potrebbe ipotizzare un rialzo del mercato è anche vero che questo rialzo avviene senza volumi. Quindi rimane il grande punto interrogativo del fatto che sia o non sia vero rialzo o superamento di quel livello 24.500. più volte anche questa settimana e la scorsa settimana si è tentato di allontanarsi e poi subito ci si è tornati. Si fa prestissimo a tornare al 24.500. Questo è il concetto. Per cui è ancora presto per stabilire quella che è la direzionalità sul mercato italiano. L'unica cosa che sappiamo con certezza è che questa lateralità per durante è piuttosto rara, insolida, infrequente. È capitata veramente poche volte negli ultimi 25 anni da quando perlomeno io faccio il trader. Non me la ricordo proprio per cui l'unica cosa che posso dire è che sicuramente usciremo da questa fase di compressione di volatilità con un movimento fortemente direzionale o a rialzo o a ribasso. Non sarò certo io col mio misero FIB a muoverlo ma saranno e dovranno essere le mani forti, gli istituzionali, i gestori dei fondi comuni. Quindi aspetto che siano loro a muoversi facendo una bella candela verde lunga o una bella candela rossa se negatività sarà al ribasso e poi mi accoderò. Quindi inutile che sia io con i miei pochi volumi a operare perché non sarò io certamente a muovere il mercato. Dovranno essere le mani forti a dare la direzionalità. Prima o poi questa direzionalità ci sarà, sono in attesa, la guardo e l'aspetto, ma non sono io il primo a prendere l'iniziativa. La situazione è analoga sul tax, quindi sul mercato tedesco, grafico assolutamente identico, rally che ha accompagnato le quotazioni come la borsa italiana dallo scorso 13 di ottobre, al di sopra di tutti i principali indicatori con le ultime 10 sedute in congestione in laterale, con qualche balzo in avanti, con qualche tentativo di rialzo che ha portato i prezzi verso il livello 14.500, però qui c'è la resistenza e quindi qui il mercato di nuovo è fermo. Non si sale e non si scende, siamo assolutamente in stallo in attesa che, come dicevo prima, le istituzioni, gli istituzionali, i mani forti e i gestori prendano una decisione su questo andamento di mercato. Anche qui, infatti, questo tentativo di rialzo pian piano, quasi nascosto delle quotazioni che c'è giorno dopo giorno, tic dopo tic, in realtà sta avvenendo con pochi volumi e quindi, diciamo, mette in dubbio la sua significatività reale. Passando alla borsa americana, lo Standard & Poor's 500, le ultime sedute sono state rialziste. Questo è un grafico daily diverso rispetto a quello delle borse europee appena visto, perché c'è un mercato che è decisamente rialzista, al di sopra di una trendline rialzista, ma è un mercato che ha comunque oscillato avendo i giusti ritracciamenti di sue fisiologiche prese di beneficio e quindi non c'è stato un vero e proprio rally, ma semplicemente un rialzo, un rialzo che però quindi sembrerebbe essere anche sostenibile. Il recente rialzo dei prezzi delle ultime tre sedute è molto positivo perché ha permesso ai prezzi di raggiungere nuovamente il livello 4.050, toccato lo scorso 15 di novembre. L'impostazione di questo grafico è rialzista, tolte che oggi e domani le borsa cash, ovviamente l'azionario è chiuso o parzialmente chiuso, anche se i future ovviamente andranno, ma anche qui ci sono pochi volumi, poche trattazioni e i grafici intraday sono assolutamente intellegibili, quindi ne è sconsigliata l'operatività e quindi si rimanda tutto a lunedì. Se verrà rotto al rialzo il livello 4.050 ci sono buone possibilità che il mercato possa allungare. Direi che rispetto alle borse europee il mercato americano, lo Standard & Poor's, sia impostato meglio a rialzo e abbia più possibilità di salire. Quindi è un potenziale upside maggiore. Riguardo alle commodities invece, in particolare il petrolio, crude oil, WTI, diciamo che l'altro giorno c'è stato un livello toccato molto importante che è 75 dollari al barile, il minimo di questo pattern che è un martello, un hammer, famosa configurazione di analisi candlestick che dovrebbe indicare una inversione di tendenza. Inversione di tendenza che in realtà non c'è stato, quindi pattern da questo punto di vista assolutamente inefficace. Al momento il livello 75 è lo spartiacque tra positività e negatività. Se torno a 75 e lo violo è necessario aprire la posizione short, altrimenti potrebbe essere conveniente già anche adesso attorno al livello 77.50 o 78 aprire le posizioni long, perché siamo comunque, sebbene ancora in una fase di debolezza, visto che il mercato sta scendendo e comunque una pressione di bassista, in realtà non dovrebbe scendere ulteriormente il prezzo del petrolio perché comunque i paesi dell'OPEC sono contrari ovviamente a questo. Hanno già detto anche recentemente che per loro il prezzo giusto del petrolio a cui vogliono vendere è 90, 90 dollari al barile, per cui ogni prezzo più basso è per loro sconveniente, per cui faranno di tutto per farlo risalire attraverso una decisione ad esempio del taglio della produzione. Quindi teniamoci pronti alle mosse dell'OPEC e quindi ad una risalita dei prezzi del petrolio nuovamente verso appunto questo livello di equilibrio che è attorno a 90, quindi siamo al di sotto e quindi il potenziale di salita è abbastanza buono. Attenzione solo e monitoriamo il livello 75 perché al di là di una questione di valore reale del petrolio o del prezzo a cui l'OPEC vuole vendere il petrolio, in realtà ci sono sempre manovre speculative che possono anche solo nell'intraday far oscillare i prezzi. Quindi monitoriamo con attenzione 75 che potrebbe diventare il nostro attuale stop loss di un'eventuale posizione long da prendere anche adesso attorno al livello 78 con obiettivo 90 dollari al barile. Per quanto riguarda invece l'oro nel mese di ottobre e inizio novembre si è scontrato con l'indicatore super trend per ben due volte, chirurgicamente lo ha toccato, chirurgicamente ha tentato di violarlo a ribasso, non ci è riuscito, non vi è mai stata una chiusura daily inferiore e da quel momento, visto che secondo tentativo è fallito anche quello, il mercato è rimbalzato molto velocemente con tutta una serie di giornate fortemente rialziste che hanno permesso ai prezzi di recuperare prima il livello 1700, poi 1725 e poi 1750 che erano tutti livelli importanti dei mesi passati diventati supporti e fino arrivare anche addirittura il 15 novembre ad un massimo di 1791 distante ma non distantissimo da quota 1800. C'è stato poi successivamente una fase di ritracciamento di quattro giornate negative e il mercato dopo aver toccato ancora una volta il 1725 diventato supporto dopo essere stato resistenza sta nuovamente rimbalzando. Credo che qui il mercato sia a rialzo, il grafico è decisamente impostato verso l'alto, comunque prezzo anche adesso subito per comperarlo sia buono perché l'obiettivo di questo movimento rialzista è il raggiungimento di 1800 dollari l'oncia, quindi va benissimo entrare in posizione long per avere questo obiettivo di 1800 come soglia psicologica importante anche 1805 che ricordo essere stato in passato un numero livello molto importante quindi anche qui come il petrolio ma forse ancora di più del petrolio la forza rialzista del mercato appare evidente. Infine uno sguardo al mercato valutario al principe dei cross l'euro dollaro che è anche questo impostato al rialzo. D'altro canto se è così evidente il rialzo dell'oro deve essere per forza altrettanto evidente la discesa del del dollaro e quindi la rivalutazione dell'euro e quindi la salita del cambio euro dollaro. Direi che è stato toccato un supporto sul livello eh uno zero due cinquanta dove è stato fatto questo doppio minimo il mercato è assolutamente eh al di sopra di tutti gli indicatori sta andando piuttosto bene con queste ultime sedute a rialzo l'obiettivo di questo movimento è in due sono due i target il primo è a uno zero cinque e uno ancora più in alto ancora più ambizioso che è uno e zero sette non dico che sia un calcio di rigore perché è sempre azzardato eh fare questi tipi di eh di di affermazione questi tipi di affermazione quando si tratta di mercati finanziari e di trading però il grafico qui parla piuttosto chiaro se tutti i grafici fossero eh così mh odessero così tante belle informazioni univoche in un'unica direzione sarebbe eh fin troppo bello qui il mercato è a rialzo e l'operatività deve essere per forza ehm rialzista con i target che ho appena citato uno zero cinque il primo ma anche oltre a uno zero sette come ultimo poi si ovviamente riaggiornerà all'analisi io vi saluto e vi ringrazio per l'attenzione vi do appuntamento al settimana prossima e come al solito vi auguro buon trading trading